Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! E' so' tu. Non c'è ma nonna, voi e' l'idea, l'idea vede che faccuna, vi trutto cazzo, ma vi trutta minghia, e' l'affanculo, e' l'affanculo. Voi l'idea, l'conte, l'amaronne, e' Gesù Cristo, e' l'affanculo, salvo buono, ciao! Non lo può fare questo! Non lo può fare questo, vai giù! Che sta facendo? Non può trasportare persone in macchina, ma che sta facendo? Non lo può fare! Ah boh, ma che cazzo vanno fuori qui... C'è... Vedi nel parchetto spaccio cocaina... Naccio c***o... Naccio c***o... C'è... Naccio c***o... 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 facci dei video ma aspetta si è sposto si è sposto oddio non voglio fare ciao amici e follower grazie a notto pp rn h a 4b 4 3 2 1 24 50 per il prime ma come cazzo vi chiamate per twitch marco di o il cazzo duro nooo vedi nel parchetto spaccio cocaina ma c'ho mannaccia cantarella oh grazie mille titan tv1 per i sei mesi grazie mille ti voglio bene grazie proprio io grazie basta vedi nel parchetto spaccio cocaina buon appetito maestro lasci un paio di patatine per i moderatori ciao a tutti ja a vabbè la jiu la jiu la jiu la jiu la piazza il ciazza la jiu la jiu la jiu la jiu la jiu bello ma vabbè bel gol chiamaci non si fanno passato la duga duga ma giù a cura da rimane can ma visto si mannaccio cazzo di maggiori non supporti più su di me speak non supporti più mannaccio sangue di solista marona grucia mannaccia maron non c'ha faccio chiuso di me speak mannaccio di solista i membri non è possibile ogni volta grance ma non è possibile sto coso che caccia ogni cusci ma basta vedi nel parchetto spaccio cocaina maccio culo mannaccia cantarella mi saluti urnellina e annarella maestro ci regali un po di goliardia un po di goliardia salto in bocca grazie vedi bello salto in bocca non salto in bocca perché non salto in bocca allora non è un salto in bocca ok ma non c'è un po di goliardia Sì, non è vero, non è vero. D.'s-c-ha-k-pv-z-k-p-v-b-s-c-h-k-p-v-s-c-ha-k-p-v-s-c-h-k-p-v-s-c-ha-k-p-v-b-s-c-h-k-p-v-k-v-k-c-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k. D.I.P.S.C.A.K.K.B.S.C.A.K.K.B.S.C.A.K. Aspettate! Ok... Un attimo, eh...